Un bambino, di tutto, guarda io, non ho detto tutto, non ho più parole, scusate, non c'è più di un anno, spero solo che la settimana prossima veramente possiamo festeggiare e prendercela per il sabbicito senza dover pagare i pulvan per portare qualche centinaio di persone. Mi dicono che Berlusconi è ancora chiuso nella stanza d'albergo, non si sa che sta a facere, dice che non esce, noi stiamo contro le case chiuse, apriremo tutto.